Dalla pallavolo femminile sono arrivate delle importanti novità in vista della stagione 2015-2016. Per ciò che concerne la pallavolo cerignola è stato rinnovato il consiglio direttivo con presidente riconfermato Antonio Lapollo ed anche un'altra novità in più, la riconferma della giovane under-16 Ornella Mancino. Per quanto riguarda invece la pallavolo cerignola che disputerà per il secondo anno consecutivo la serie B2 nazionale è arrivata la notizia del nuovo main sponsor che sarà il gruppo alimentare di Lillo. Il giovane imprenditore cerignolano mette in evidenza come è stato utile dover appoggiare in pieno di essere lo sponsor principale della più importante squadra ofantina mettendo in evidenza il principio della maturazione del settore giovanile e si mostra fiducioso. Due squadre sia in B2 che in D2 per raggiungere dei traguardi che si spera possano essere utili per l'intero movimento pallavolistico femminile.